Sto iniziando ad avere visione di gioco Allora, facciamo così Lo buttiamo addosso e lo tempestiamo Pazzesco Teocleziano Incredibile quanto sto diventando forte Tiro la palla addosso e poi lo bombardo Pazzesca questa skill Ve lo dico Cioè, Food Brown mi sta piacere perché sto iniziando a capire un po' le meccaniche Non abbiamo perso nemmeno una volta Quindi potremmo far partire una piccola sfida dal grado 1 al grado 10 Senza perdere nemmeno una partita Vediamo, tra l'altro tra un po' riesco a sbloccare anche delle altre carte Sì, ce lo dovremmo fare perché abbiamo un tank in squadra Un tankissimo Attenti sempre a Bombardino che prende bene campo Nita Uh, uh, no Ehi, amico da dietro Che dici? Direttamente da dietro Ci portiamo in avanti questa volta Non so perché hanno smesso di difendersi Piuttosto stanno pensando ad attaccare il player piuttosto che difendere la porta Sì, modalità Food Brown dovete evitare di prendere gol Più che altro Forse riusciamo a portarlo così al grado 10 senza mai perdere Sarebbe il top Anche perché abbiamo appena iniziato Siamo già a grado 6 E potremmo effettivamente farcela Questa potrebbe essere una sfida anche magari per i nuovi brawler E vedere se ci riusciamo Ci avevo provato con Pocho Oh grazie mille Anzi ci avevo provato con El Primo Però purtroppo non l'ho potuto fare perché giocando solo e soltanto in sopravvivenza Non sempre vinci Intanto Teocleziano segna mentre muore E quindi viene così Eccoli che attaccano tutti insieme Mi hanno fatto Però li abbiamo seccati E quindi probabilmente andrà a vincere anche questo Rimango in porta Non c'è bisogno che io arrivi fin lì Ok Vanno via in 30 secondi queste parti Me l'avevano detto Mi avevano detto Frank Effettivamente Food Brown è la modalità migliore Perché le partite possono durare un attimo E sali veramente tantissimo Eravamo a 3100 all'inizio Adesso siamo saliti veramente Di più Pocho, Bull e Rosa Io parto laterale E lo preferisco 520 a freccia Quindi sì effettivamente fa molto danno Vediamo se riusciamo Sto qualche trick Guardate eh Faccio 1-2 su me stesso Sì faccio parecchio danno Ehi ehi Questo Bull ci potrebbe dare un po' di fastidio Fortunatamente ha l'attacco Che ha un cono di attacco Un... Veramente basso Vediamo se riusciamo a farglielo in qualche modo Che lui se ne è andato Da solo il tiro Teocleziano Incredibilmente La spara centrale E la mette in porta signori Il moto di orgoglio degli avversari Che ci attaccano tutti insieme Aiù Ok Andiamo a farlo quest'altro Dai forza forza Andiamo andiamo Fallo No 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 così Abbiamo perso Vi giuro una volta ho perso una partita Perché? Perché il mio compagno di squadra Invece di segnare Via sta palla Invece di segnare Ha iniziato a perdere tempo Davanti alla linea della porta E loro hanno preso palla E poi han fatto go Eravamo 1-1 Quindi abbiamo perso Non potete capire Quanto mi sono No non è vero Non mi sono arrabbiato Perché non mi interessa Mi interessa più che altro Vincerle Essere competitivo Sotto questo punto di vista Il caro buon vecchio Bull Prova l'attacco Prova l'approccio lateralmente Ma il nostro Bo Gli fa un danno ignobile Fa un danno ignobile Bo Devo essere un è Boom Vinta che questa Wow E livello 7 Ci mancano Pochissime Pochissime Coppe insomma Per arrivare al livello 10 Senza aver perso nemmeno una volta Che sarebbe fighissimo Fatemi sapere se ci siete riusciti Vediamo se tra l'altro Riusciamo Ok Questo direi di metterle qua Perché tanto se arrivano Partalo di qua Grazie mille Rosa Che ti viene a prendere un po' di danno da me Aiuto Colt Ragazzi siete ancora immuni Quindi dovreste riuscire a fargli un bel po' di danno lì Sì 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 Ci siamo riusciti Adesso se riusciamo a buttare giù Pocho Is good 1-2-3 1-2-3 Ok lui è andato Queste le metto qui Attento a Colt Colt lo buttiamo giù Tiriamo questo su di lei Franchino Ok Ripartiamo Ripartiamo in contropiede Incredibile Epocho mi ha fatto effettivamente Però guarda che gli faccio danno con le mine Ma le mine Ecco questa è una domanda Le mine Una volta che Utilizzo un'altra ultimate Chiaramente vengono Vengono cancellate Suppongo no Quindi loro stanno lì Io quasi quasi metterei questo Facciamo gol Sì Bonanita ha segnato Perfetto Perfetto Uh moto d'orgoglio A parte degli avversari Fanno veramente un sacco di danno Che effettivamente come facciamo Tanto danno noi Ah Preso Proprio All'ultimo secondo E abbiamo vinto anche questa E sì Direi che Ci sta 88 grado 7 E continuiamo quindi A Portarci Avanti E vediamo Perché in realtà lì Si era solo Tipo una mini Doveva essere una mini recensione di bo Poi invece è diventato Gioco finché vinco In pratica Quindi incredibile Sono riuscito a fare una cosa Che nemmeno io credevo possibile Il gol Pazzesco Incredibile La folla è in delirio Ehi 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 A questo Ma a questo Ok Dai forza Raffaele ha segnato Pazzesco Raffaele Incredibile 96 su 100 Vediamo se vogliono giocare di nuovo Il caro buon vecchio Raffaele Se vuole fare una partita con noi Dai forza Grande Raffaele Accetta Nuova partita di foot Brown segna due gol per vincere Easy game Abbiamo un contro Uh c'è un bow Attenzione Qua la partita potrebbe svoltare in maniera negativa Perché un altro bow in squadra Anzi un avversario Un bow avversario Potrebbe essere fastidioso Ma No 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 Però bombardino Non lì Difendiamo sta pala un attimo Aia Troppi danni Troppi danni Attenzione a dynamite Gli lanciamo la pala addosso Aia No questa volta l'hanno fatto Però forse abbiamo Mi sembra che Ci sia un po' di Superiorità A livello di campo Che adesso noi siamo spawnati Se riusciamo a non perdere Questa superiorità Che abbiamo Queste le mettiamo qui Vediamo se riusciamo Un attimino A Prenderlo E Attenti signori Attenti signori Non così Non così E Yawa Ha segnato Peccato Peccato perché Sembrava Sembravamo avere Il possesso Del campo Invece Dobbiamo giocarcelo un attimino meglio Quindi signori Un attimino Che entro in In mood Però devo riuscire a non andargli contro Altrimenti qua Ci fanno veramente Un sacco di danno Bene Bene Così Prendiamo campo Prendiamo campo Prendiamo campo Lui è lì Bravo Raffaele Incredibile Pazzesco Le partite iniziano a diventare un attimino difficili Molto d'orgoglio da parte degli amici Eccoli là Io me la gioco un attimino qui Divento invisibile Ritorno Per prendere il possesso No Vabbè Vediamo se riusciamo a buttare giù qualcuno Tipo lui No Aia 116 Il loro bo è quasi andato Bravo Bombardino Bravo bombardino Vediamo dovremmo riuscire Ecco adesso abbiamo di nuovo la superiorità di campo Attento Attento lì Buttiamo questo dynamite giù Buttiamo questo dynamite giù Attento qua Ehi No Oddio Facciamo così Boom 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 Lanciamo queste Attento Franci Eeeh Ok Tempi supplementari signori Chi segna vince Abbiamo un minuto Per portare a casa la vittoria Rischiamo tantissimo Tantissimo Stiamo rischiando tantissimo Vediamo se riusciamo a fare un po' di danni a lui Ehi Vai bombardino Scappo Scappo Facciamo danno Mh Riusciamo a prenderlo Riusciamo a prenderlo Riusciamo a prenderlo Questo qui Ok Abbiamo il centrocampo coperto Circa Boom Forza ragazzi Forza ragazzi Non so come prendere il pareggio Se come vittoria o come sconfitta Ma suppongo non ci sarà nessun pareggio Ecco qua Perché easy game Ci fa gol Purtroppo Perdiamo la nostra prima sconfitta Al grado 7 Ci abbiamo provato Quindi signori Io direi che Siamo arrivati a 3.210 Abbiamo 25 carte da utilizzare A questo punto Direi di livellare Bo Perché è veramente pazzesco Ottimo 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 Veramente Fatemi sapere cosa ne pensate Secondo voi Che voto Da resta insomma A Bo Se secondo voi È un brawler buono Fatemi sapere cosa ne pensate Grazie mille per essere rimasto Ci vediamo in un prossimo video Ciao